Ragazzi miei belli, buongiorno a tutti. Le pantomime e tutto quello che riguarda la carta stampata, i giornali, le tv, continua, questa continua polemica nei confronti dell'Inter dal caso che abbiamo sentito nominare più e più volte in queste settimane, ormai imperversa, si parla solo di questo, non si parla più di sport né di nazionali, non ho sentito parlare di nazionale neanche da lontano. Se non per criticarla un tantino, ma poi fine, non si è parlato di campo, non si è parlato di nulla. Si è parlato invece di tutto quello che riguarda Internapoli, del caso Acerbi, del caso Juan Jesus, ma sapete bene, oltretutto adesso inventano anche, si sono messi in testa che Acerbi si è presentato con Avvocati e Marotta a seguito, perché evidentemente ha qualcosa da nascondere, mentre Juan Jesus dice e afferma a chiare lettere, io non ho bisogno di sostegno, non ho bisogno di Avvocati e di niente, e viva alla pippa direi, e viva alla pippa. Uno si deve difendere da accuse diffamatorie, l'altro no, l'altro accusa, quindi è anche una cosa logica e normale. Detto questo, perché anche mi sono stancata veramente di tutto questo, passiamo ad altro, passiamo ad altro perché questa mattina mi sveglio, vado sui miei social, sui miei canali social, e leggo, aspetta com'è che era, nervosismo in casa Inter, Aslani Sanchez altissima tensione, mamma mia ragà, cioè come se fosse successo chissà cosa, però mettiamo un articolo su tutto questo, facciamo polemica, facciamo disastri, continuiamo ad alimentare crisi che non esistono, e che diciamo, diciamo questo, altissima tensione tra Aslani e Sanchez, perché che cosa è successo? Praticamente ieri c'è stata la partita Cile-Albania, e Alexis Sanchez preso dalla foga della partita, come sempre suo solito fare, ha fatto un'entrata un po' così al compagno di club, Cristiano Aslani, che un attimino ha detto, ma che fai, Leone, Leone, che stai facendo? E niente, poi si sono chiariti in un abbraccio, insomma, si sono abbracciati, si sono chiariti, sono stati tranquillissimi, serenissimi, ma il titolo del giornale di stamattina ovviamente vuole fare sempre polemiche. Poi altri titoli di giornale, ovviamente sempre riferiti al mondo Inter, dicendo, Marotta tra due anni abbandona la nave, si sente puzza di bruciato. Marotta lo ha sempre detto, che a scadenza del contratto avrebbe fatto altro, e mi occuperò, e dice, mi occuperò alla scadenza del contratto tra due anni, mi occuperò di giovani, però ci sta, lo sapevamo già, non c'è nulla di strano, nulla di trascendentale, nulla di puzza di bruciato, rispetto a fallimenti e cose varie, anche perché, voglio dire, da ora a due anni, ragazzi, le cose potranno e cambieranno sicuramente tantissimo, viste le voci che ci sono in circolazione. Quindi tra due anni, Marotta gli scade il contratto, che era nel 2026, se non sbaglio, 2026, 2027, o siamo nel 2024, nel 2026, scade il contratto, a giugno 2026 ci salutiamo, è stato un piacere dei pazzi, questi anni sono stati fantastici, abbiamo vinto ogni anno qualcosa, abbiamo portato a casa dei trofei in bacheca ogni santo anno, il signor Marotta decide di fare altro. Anche perché, voglio dire, è arrivato ad un'età in cui può dedicarsi ad altro che non al mondo dei club. Quindi è lecito farlo ed è anche normale che avvenga. Quindi nessun disastro, cari amici interisti, state sereni, perché non è tutto quello che vogliono fare sembrare, non è tutta questa grande follia, questo grande scoop, anche se i media si divertono tanto a fare questi scoop così. Detto questo parlano di Zhang, mi chiedete in tanti, ma Zhang, la situazione è Zhang. La situazione è Zhang, ragazzi, è quella che è, ma la sappiamo da tempo. Sicuramente qualcosa sta succedendo, ragazzi, perché non è normale che un presidente di club non si faccia vedere più in Italia da quasi un anno. È chiaro che qualcosina non va, è chiaro che qualcosina ci viene nascosto, è chiaro che qualcosina sta succedendo, qualcosa in pentola bolle. Io personalmente, se devo essere sincera, non so di che cosa si tratti, so che l'Inter subirà presto un cambiamento abbastanza d'impatto. Questo non significa fallire, questo non significa riempire i fianchi agli avversari, perché è chiaro, ragazzi, ci godono delle nostre disfatte, solo che siccome negli ultimi anni di disfatte vere e proprie non ne hanno viste, e allora giustamente devono fare i drammi, devono ridere, ti aspetto sulla riva del fiume, aspettate sulla riva del fiume, sapete da quanti anni aspetto dalla riva del fiume e sto avendo grandi soddisfazioni. Quindi non facciamoci abbindolare sempre dai soliti giornaletti, tra virgolette, e non voglio offendere tutta la categoria dei giornalisti, ovviamente perché ci sono quelli seri, ci sono quelli per bene, ci sono i professionisti, che però purtroppo, ahimè, a volte, devono cedere, devono sottostare alle leggi del più forte, del padrone, di chi comanda, ecco, diciamo così. Io sono una persona libera, libera di dire quello che voglio, libera di dire quello che penso nel rispetto pieno, sempre in maniera educata, gentile e per bene, però io lo penso e lo dico. C'è un disequilibrio tra alcune squadre e altre a livello di informazione che credo sia un po' imbarazzante, credo sia un po' imbarazzante. Dove batte il vento? Fino a quando è convenuto, si è parlato bene dell'Inter, si è parlato di Inter stratosferica, Inter fantastica, Inter fantasmagorica, Inter ingiocabile, Inter ingiocabile, poi si cambia idea dopo due giorni, tre giorni, perché? Perché è uscita la Champions, sicuramente nei 180 minuti non meritatamente, ma nella partita di ritorno meritatamente. Questo è il succo del discorso, ragazzi, quindi non ci facciamo abbindolare, mancano 14 punti alla conquista dello scudetto, a Cancelanoglu lo ha detto apertamente, quando gli è stato chiesto in un'intervista dopo la partita con la Turchia se resta all'Inter, lui dice certo, ci sono tante cose che ovviamente fanno male, fanno male. L'uscita in Champions, ragazzi, a Cancelanoglu dice ci abbiamo provato, è andata male, ci proveremo sicuramente l'anno prossimo, manca poco alla conquista di qualcosa di importante, quindi ci dobbiamo, e dobbiamo pensare solo a noi, perché quando gli chiedono a Can, sarebbe bello per i tifosi interisti festeggiare in casa del Milan, sinceramente a me, ragazzi, ve lo dico chiaramente, a me interessa vincere, non mi interessa se in casa del Milan o la partita prima, se è possibile la partita prima ancora meglio, sinceramente a me frega una pippa, sinceramente, proprio chiaramente, a me interessa vincere con l'Inter, non mi interessa le disgrazie altrui o le cose, non sono come gli altri, io, assolutamente no, a Cancelanoglu la pensa esattamente come me, noi pensiamo solo a noi stessi e non agli altri, risposta perfetta, per il resto dice che rimarrà l'Inter, vedremo, vedremo, questo è tutto un punto interrogativo per tutti quanti, nessuno escluso, e niente, ragazzi miei, condividete il video, ovviamente, se vi sono piaciuti i miei contenuti in questo caso, e se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e invitate i vostri amici a mettere like nei video e a iscriversi al canale, perché, attenzione, l'ho detto anche già precedentemente, ai 15.000 inizieremo con le live su YouTube e ce ne saranno delle belle, ragazzi, altro che trasmissioni televisive, vi abbraccio forte, come se fossi lì, ricordatevi sempre che la vostra luca vi vuole bene, e sempre, 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 forza Inter! E abbasso le male lingue. Ah, dimenticavo, sono una giornalista. No, stavo scherzando, non sono una giornalista, sono un'appassionata, e si vede pure.